Si lavora lacremente, le questioni sul tavolo del presidente Di Palma sono diverse, tutte di notevole rilievo in ottica a stagione 2013-2014, ma facciamo il punto della situazione ad oggi. Di Palma pare aver raggiunto un'intesa di massima con il Campobasso 1919. La compagine iscritta al torneo d'eccellenza molisana dovrebbe fungere da società satellite del nuovo Campobasso Calcio. Sia come Fucina e Vivaio per la crescita dei giovani, la continuazione del cosiddetto progetto Lupi del Molise, sia come Bacino per esportare il marchio del Campobasso anche a livello scolastico. Un'iniziativa davvero lodevole e utile, se indirizzata bene sia al Campobasso Calcio che al Campobasso 1919. Rinviato momentaneamente invece l'incontro con il presidente delle ACLI Marco Meo, saltato per impegni lavorativi proprio del numero uno del settore giovanile Campobassano. Di Palma e Meo dovrebbero trovarsi comunque a breve per discutere sull'intero settore giovanile. In quest'ottica va ancora ricercata una formula adatta e vantaggiosa per entrambe le parti. Soddisfatto di Palma, come sentito alle nostre telecamere, per l'esito della riunione a Palazzo San Giorgio, lo sforzo del Comune per la convenzione dello stadio e dell'area antistante è stato importante. In tal direzione l'auspicio è più che positivo per la collaborazione in un futuro prossimo. Confermata la scadenza del 25 giugno per il versamento degli stipendi arretrati, in tal senso non ci saranno problemi secondo il presidente Rossoblu, come non ce ne saranno per la fideiussione da 400 mila euro da versare entro fine mese per l'iscrizione al campionato. Bene così anche perché si inizia davvero ad entrare nel vivo della prossima stagione agonistica. Novità attese in giornata sul fronte riforma e giovani in campo. Oggi l'Assemblea di Rega Pro pronta a deliberare e confermare le direttive di questi giorni. Un appuntamento sorto anche per la redistribuzione dei diritti TV, secondo la legge Melandri. Soldi e introiti saranno distribuiti per il 40% a tutti in ugual misura, mentre per il 50% decideranno i club. Sulla regola Under non ci sarà più il minutaggio. I vertici federali stanno pensando ad un'età media. Si parla di 23 o 24 anni, delle squadre che scenderanno in campo. Attenzione però, un'età media da calcolare sui 18 giocatori indistinta. Una riforma un pochino particolare perché potremmo vedere schiere di giovanissimi in panchina per abbassare la media dei giocatori senior in campo. Infine sul mercato da segnalare che il centrocampista classe 89 Francesco Curcio rientrerà al crotone lasciando quindi campo basso. In entrata il sondaggio del direttore sportivo Recchi per il prestito dell'attaccante Amadou Samb di proprietà del Chievo Verona.